La rissa è scoppiata sabato pomeriggio davanti a una sala giochi di Viano Tarbartolo, usuale luogo di ritrovo per molti ragazzi, ma poco dopo si è spostata di qualche metro al giardino inglese. Per sedarla è stato necessario l'intervento di carabinieri e polizia. Un giovane è finito in ospedale con escoriazioni e contusioni. Altri coetanei sono stati invece fermati. E l'ultima deriva della vicenda dei video hard girati tra studenti minorenni di alcuni licei palermitani è che da alcuni giorni circola fra i telefonini dei ragazzi della città. Il pestaggio di sabato sarebbe stato infatti organizzato contro due giovani ritenuti responsabili da altri ragazzi di aver lanciato sulla rete quei filmati proibiti. Le indagini vanno avanti a ritmo serrato, la polizia postale ha acquisito i filmati, alcuni telefonini sono stati già sequestrati, ma i video hanno fatto ormai il giro di Palermo e nelle scuole non si parla d'altro. Proprio dalle scuole era partito l'allarme, oltre ad alcuni genitori che avevano intercettato i filmati sugli smartphone dei propri figli. A rivolgersi alla polizia postale sono stati infatti anche i docenti di alcuni istituti, dopo aver appreso dei video a luci rosse che ritraevano ragazzini e ragazzine e che erano stati messi in rete, scambiati su WhatsApp. Gli investigatori cercano ora di risalire all'origine, dunque a chi abbia girato, ma soprattutto diffuso le immagini. A rischiare sono anche coloro che quel video l'hanno ricevuto. Anche chi salva o mette in circolazione, inoltrandole ad altri destinatari, immagini come quelle, può essere perseguibile per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L'inchiesta è coordinata dalla Procura del Tribunale per i minorenni. Al momento vige il massimo riservo, ma non escluso che gli investigatori abbiano trovato altri contenuti, oltre al video in circolazione, foto e filmati, in cui comparirebbero anche altri soggetti, oltre agli studenti. Grazie a tutti.